Una conferenza stampa voluta dal consigliere Fabrizio Meo per fare chiarezza, secondo il suo punto di vista, su alcune scelte che l'amministrazione comunale di Croton ha fatto e che farà nelle prossime settimane. Al centro della vicenda antica Croton, la riapertura del castello di Carlo V e anche la questione relativa alla gestione del nuovo teatro comunale. C'è qualcuno che prende decisioni senza interpellare nessuno. Questo insinua l'idea di Meo. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, si fa la storia di questa nostra città, nel senso che c'è la possibilità di stravolgere nel bene piuttosto che lasciare le cose esattamente come stanno, almeno nel lungo periodo. Questa è una sfida che dobbiamo raccogliere. Sono stati fatti degli errori, questi errori possono essere corretti e sicuramente questo deve essere lo sforzo a cui deve essere chiamata la città intera. Viceversa è purtroppo assai poco informata su quelle che sono soprattutto le opportunità, le straordinarie opportunità che ci vengono date dalla progettualità dell'antica Croton, piuttosto che da un teatro comunale che al di là dell'aspetto edilizio va gestito. Per poterlo gestire è necessario aprire a tutta la città, costituire una fondazione, un soggetto che faccia sì che le risorse possono essere intercettate e possono poi rimanere nella nostra città. C'è il problema di mettere a sistema tutte le risorse culturali e tutti i beni materiali e immateriali di questa nostra città, quindi c'è il castello che addirittura l'ente potrebbe acquisire, c'è un patrimonio artistico non indifferente che giace totalmente, è stato d'abbandono, è sprovvisto oltretutto di assicurazione, quindi non si può utilizzare. Rispetto a cui vi è un'assoluta indifferenza, piuttosto che ritardi inammissibile, il Consiglio Comunale sul castello ne ha ottenuto la riapertura grazie anche a una mobilitazione popolare in tal senso. Devo dire che abbiamo fatto cambiare l'idea al sindaco che la pensava diversamente, pensava invece di dover attendere i lavori di bonifica. E quindi questo significa che il sindaco non è uno sciocco perché solo i sciocchi non cambiano mai idea. Io spero di poter far cambiare idea al sindaco, avuto riguardo a degli errori, piuttosto che a delle cose che sono sicuramente da perfezionare, che esistono sia nell'antica Crotono sia avuto riguardo alla programmazione per il teatro.